In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo che caratterizzeranno in questo fine settimana, che cosa puoi dirci sulla situazione attuale del tempo? Dopo oltre un mese di dominio incontrastato, l'anticiclone africano ha ceduto sotto i colpi di intense correnti provenienti dall'Atlantico settentrionale. Un cedimento graduale che ha interessato dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola e solo nella serata di mercoledì 10 luglio ha abbandonato l'intero territorio nazionale. In virtù della grande mole di energia, calore ed umidità che si è accumulata sul nostro bacino del Mediterraneo, i contrasti con l'aria fresca in arrivo sono stati notevoli e di conseguenza la fenomenologia su molti settori della nostra penisola è risultata di severa intensità. Solo per citare alcuni fenomeni estremi che si sono verificati in Abruzzo, non posso non soffermarmi sulla grandinata record che nella giornata di mercoledì ha interessato la città di Pescara. Chicchi di grandine di grossa dimensione con un diametro di oltre 5 cm hanno creato ingenti danni a persone e cose. Eventi del genere devono far riflettere in quanto sempre più frequenti e legati certamente alle ondate di calore sempre più prolungate ed intense. Per ritornare a condizioni normali per il periodo in corso abbiamo dovuto pagare un caro prezzo e probabilmente sarà così anche nei prossimi mesi. Che cosa dobbiamo aspettarci invece per le giornate di sabato 13 luglio e domenica 14? Per domani sabato 13 luglio al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare dalle aree montuose dove saranno possibili rovesci temporaleschi in parziale estensione alla costa prima del tramonto. Temperature senza variazioni di rilievo con valori in linea con la media del periodo. Venti da deboli a moderate occidentali e mare da poco mosso a mosso. Domenica 14 cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. A parte passaggi di nubi nel corso del pomeriggio sera ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie, venti deboli di direzione variabile tendenti a disporsi da nord e mare poco mosso. Per quanto riguarda invece la prossima settimana come sarà la tendenza? All'inizio della prossima settimana l'alta pressione delle azzorre subirà uno slancio verso il nord atlantico favorendo così l'affondo di una saccatura nord europea verso i Balcani. Sulla nostra regione assisteremo ad un moderato peggioramento con un'accentuazione dell'instabilità pomeridiana. Le temperature subiranno una lieve diminuzione soprattutto nei valori minimi della notte. Dunque l'anticiclone africano almeno per un po' resterà lontano dalla nostra regione garantendo così un'estate normale e soprattutto in assenza di condizioni affose. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it